e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo tornati su clash royale oggi ragazzi arrivo da poco in arena 2 anzi manco una quindi ragazzi siamo appena arrivati oggi mi diamo ai 600 trofei so che è tanto però con questo deck possiamo fare di tutto appena giocato un amichevole contro un arena 3 e stava all'inizio vincendo stava vincendo però poi sono riuscito a muore no non a morirlo non a ucciderlo per carità sono riuscito a vincere per 3 a 2 su rimonta per pura fortuna cioè per pura fortuna perché è stata una bella partita in fin dei conti è stata una bellissima partita giocata benissimo da tutte e due le parti cioè è stata bella tanta roba comunque no c'è un altro cavolo 160 ok si è complicato la vita si è complicato tutto si è complicato il tutto ora gli metto lì principe gli schiaffo principe e tanta roba però no dai gli schiaffo questi e basta inventando musica a caso io vado a vincere ah ragazzi sono riuscito a farmi gli accedi al 4 se non avete notato allora ok andiamo a vincere prima partita vinta 3 a 0 tanta roba andiamo a vedere cosa ci ha dato un baule d'oro oddio che fortuna che fortuna raga baule d'oro che baule baule d'oro dai 70 ai 98 di oro che ci servono ragazzi ci servono e quindi adesso ragazzi siamo quasi a 500 trofei d'accordo vabbè tanta roba eh tanta roba tanta tanta roba comunque andiamo ignorantoni subito cucciolo di drago e principe no non ci volevo cavolo mi ha fermato raga mi ha fermato eh mi ha fermato di brutto questo non ci voleva proprio non ci voleva ogni voleva proprio ogni voleva proprio e vabbè il suo gigante è andato giù ok gli mando sotto eh loro ok ho usato 4 ho usato 4 ci abbiamo un po' di tempo ci abbiamo un po' di tempo dai 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 400 200 160 80 ed è 1 a 0 per noi tanta tanta roba 1 a 0 per noi e lui non ci ha ancora fatto neanche un pezzo di danno allora sono indeciso qua eh e mi ha messo il gigante adesso io gli metto dall'altra parte non si immagina cosa sto per mettergli non se lo immagina per niente lui non se lo immagina non se lo immagini io non ci ho mai cosa ti sto per mettere davanti la mia furia scatenata no non ci credo vai no quanto ti odio come fa a mettere tutte ste cose e siamo 2 a 1 incredibile bella partita fino adesso eh fino a prova contraria bella partita fino a prova contraria eh stiamo comunque vincendo abbiamo un grande vantaggio il vantaggio del 2 a 1 gli mandiamo lì no gli ha acceso è andato dall'altra parte dei cenebrati no ho mai mandato il gigante all'1 aspetti eh petti che faccio un pochino di danos quanto siamo? mille e no eh e no eh e no e no aiuto aiuto oddio 61 di vita aiuto no ti prego non farmi perdere abbiamo vinto non ci credo con 61 di vita troppo epico con 61 di vita che anzi troppo forte e mi sa ragazzi con questa partita 500 trofei comunque ragazzi questa partita è stata la più epica della serie fino a prova contraria fino adesso troppa roba ragazzi troppa troppa roba mamma mia quel punto avrei ho creduto veramente di perdere ok allora abbiamo smaltito la smornia perché ho detto abbiamo smaltito la smornia a caso mi è già morto tutto come è possibile no vabbè questo è forte questo è forte cavolo questa non ci voleva abbiamo incontrato uno più forte di noi mi sa mi sa che il deck è arrivato il momento di di mandarlo via questo deck mi sa che è arrivato il momento di cambiare deck ragazzi perché mi sa che stiamo diventando un po' deboli riesce sempre a contrattaccarci prevede tutte le nostre mosse mi sa che è diventato un po' questo deck mi sa di mi sa che dobbiamo cambiarlo comunque a parte questo stiamo vincendo lui ci ha fatto poco danno cioè vabbè poco proprio no eh ok 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 muori muore no mi muore mi pecca ancora prima di arrivare ok no si pensavo mi lanciasse una palla però no ok facciamo danno facciamo danno e questo non è niente di male per noi non è niente di male per noi ovviamente è tanto tanto male comunque ragazzi io questa la devo vincere per forza perché se no non arriviamo a ti odio si espressivo vero fa male e ciao e ciao ok ora gli metto davanti tutto quello che mi viene in mente tutto tutte le cose più devastanti che ho muori guarda come muore subito guarda come come soffri come soffri male come soffri male comunque stiamo vincendo no non ci voleva non ci voleva raga non ci voleva questo contrattacco non ci voleva proprio facciogli andare via gli arcieri deck sto deck ragazzi all'inizio non funziona proprio no 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 ragazzi no 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 vabbè tanto vinciamo lo stesso me ne ero di mente vincendo noi comunque io sono abituato ai pareggi nel mio primo account però dai ti prego 666 di vita muori male e vai anche questa partita l'abbiamo vinta oggi ragazzi giornatella furtunella comunque ragazzi non possiamo ovviamente puntare ai 600 stavo scherzando perché vabbè le partite durano anche se anche se non sembra le partite comunque ultima partita mi sa per oggi lui ha meno trofei di noi il bello ragazzi che dell'arena 2 abbiamo trovato solo gli scheletri che mi sono già fatto oddio cos'ha questo che io non ho cos'ha questo che io non ho mamma mia mamma mia ha di tutto questo mamma mia fortissimo sto prendendo in considerazione l'idea che questo potrebbe batterci sto prendendo in considerazione è morto il mini pecca ma ce la facciamo lo stesso perché siamo gagliardi gagliardi siamo tanta roba noi siamo davvero tanta tanta roba ok abbiamo il principe libero incredibile non ci voglio credere non ci sto credendo non è possibile ok andiamo avanti a fargli danno ok cavolo l'unica cosa brutta è che abbiamo il mini pecca soltanto a livello 1 quindi lui reciproca non ci voglio non ci voglio credere cosa ha fatto questo no vabbè dai no no 420 di vita non ci sto credendo quanto la sta odiando sta persona con tutto il mio immenso cuore ora mi mette sicuro davanti ecco infatti lo sapevo buon mori ormai ho vinto zia arrenditi arrenditi troppo forte comunque non ve l'avevo detto c'ho già il principe al 2 in questo accanto che è tanta tanta roba tanta tanta di quella roba comunque abbiamo fatto un altra corona quindi abbiamo il nostro bene amato baule della corona andiamo ad aprirlo forse troviamo una epica 191 di oro che ci serve non troviamo niente sicuro lapide è una epica no non ci credo dai serio serio ho trovato due erare e poi non mi fai trovare la epica sei una persona cattiva una piccina cattiva vabbè ragazzi oggi per oggi finisce qui l'episodio siamo arrivati a 540 trofei tanta tanta roba non abbiamo perso neanche una partita con il nostro deck l'unica cosa brutta è che non ho il mini pecca al 2 lo chiederò per far anzi lo chiedo subito adesso chiedo il mini pecca così se me ne donano due ah no ne posso ricevere solo una così quando lo richiederò potrò averlo al 2 perché all'uno la vita fa un po' schifo è molto forte ma la vita fa un po' schifo fino a quando non ce l'avrò al 2 ragazzi prendo in considerazione l'idea di mettere o la capanna goblin o la lapide ma quasi quasi sapete cosa non metto nessuna di queste due cose gli vado a mettere il bombarolo solo è una cosa temporanea ragazzi è solo una cosa temporanea comunque se non vi siete ancora iscritti fatelo lasciate un like iscrivetevi anche al canale di lukino king che trovate in descrizione e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti